Tre mesi e non qualsiasi, ma come luglio, agosto e settembre con gli alberghi più occupati che non nel 2019, l'ultimo anno definiamolo normale, pre-pandemia. E pur zoppicando leggermente, a maggio e giugno, quando ancora la zona gialla e l'incertezza sulle misure anti-covid facevano sentire il loro peso, al lido di Jesolo e di Otella hanno mantenuto una media di occupazione superiore al 70% lungo tutto l'arco della stagione. Sono dati che ci hanno piacevolmente stupito, non devono però rasserenarci troppo, devono servirci come stimolo a capire che la località ha un suo appeal, che la località tira, che il comparto è stato in grado di rispondere efficacemente ad una situazione molto difficile che è quella che ha vissuto negli ultimi due anni, ma da qui si deve ripartire e deve servici semplicemente a dare uno slancio all'interno settore, alle interne località per guardare non la 2022 ma almeno la 2030 per lo sviluppo delle nostre coste. L'assemblea dei albergatori isolani affiliati all'AIA prosegue con convinzione e sostegno ai grandi eventi sportivi vero traino delle ultime settimane. L'abbiamo visto anche con gli strumenti di analisi che abbiamo, questi eventi, questi grandi eventi portano occupazione, portano ricadute sul territorio, se abbiamo chiuso un settembre così ottimale è stato sì grazie al Metto ma anche grazie a questi eventi tipo Iron, abbiamo visto come l'evento del kickboxing che si terrà la prossima settimana fondamentalmente porta tassi occupazionali molto maggiori rispetto al normale, diciamo così ai tassi in cui siamo abituati in ottobre, quindi va investito con coscienza, con attenzione su questi eventi, devono essere eventi che hanno ricaduta, non eventi di un giorno che spesso non portano nulla se non una serie di confusioni annesse ma non portano poi ricadute economiche sul territorio. Resta però un punto dolente, reperimento di personale specializzato per l'alberghiero. Questo non è più un problema, è un'emergenza, è una situazione emergenziale che coinvolge non solo il nostro comparto, non solo la nostra località ma questo non ci basta, non è una giustificazione per mettersi il cuore in pace, deve servirci comunque per iniziare a cambiare approccio, ad essere molto più proattivi, molto più innovativi ma soprattutto partire con un approccio culturale diverso alla ricerca e alla selezione del nostro personale.